Volevo ribadire che con queste mozioni noi offriamo anche una occasione al Governo per recuperare perché la risposta del Governo in questo frangente è stata troppo timida nei confronti di un popolo che si è sempre dimostrato in prima linea quando c'era da soccorrere altre popolazioni della penisola e che, voglio ribadirlo, contribuisce con un residuo fiscale di oltre 20 miliardi all'anno ai bilanci di questo Stato. La risposta è stata troppo debole, ci aspettiamo di più e ad aumentare anche la distanza che si è creata dopo l'evento calamitoso fra i Veneti e il Governo centrale c'è stato anche lo scarso spazio riservato a questo evento dai media nazionali, in particolare la RAI che l'hanno derubricato quasi un forte temporale, assolutamente sproporzionato lo spazio riservato rispetto all'entità dell'intervento. Il Governo ha l'occasione di recuperare, abbiamo indicato come farlo, gli strumenti ci sono, in altre occasioni è stato fatto, la gravità dell'evento lo merita e credo che il popolo veneto anche lo meriti. Grazie.